ricordisti ed eccoci di nuovo a voi per il nostro articolo conclusivo rimontaggio segue mini nine bot spettacolare allora come avevo detto vi diamo un'ultima occhiata quella che è la cda e la struttura la scocca veramente fatta bene le protezioni anti acqua praticamente il prodotto quando la batteria che bella batteria spettacolare questa batteria tra l'altro voi la staccate e la batteria staccata la potete ovviamente caricare come stiamo facendo noi col caricabatteria quindi potete lavorare sul prodotto caricando la batteria senza meno problema molto bellino strutturato benissimo prodotto veramente bene nessuna vibrazione ottima la scelta delle plastiche ottima la scelta dell'impermeabilizzazione della struttura della sistemazione di cdi dei dissipatori dei motori all'interno della ruota non c'è proprio nulla da dire guardate la perfezione anche cablaggi e collegamenti questi sono dissipatori signori è proprio un bel prodotto ma segue segue veramente qua si vede veramente lo zampino di segue vi ricordiamo pneumatici tubeless pressione da noi consigliata 1 e mezzo anche 1 e 2 più e bassa più magari consumate un attimino più di energia diminuita l'autonomia però è molto più comodo sulle buche perché questi prodotti non sono dotati di ammortizzatori e quindi la gomma deve assorbire le vibrazioni sono gomme dei carrelli notiamo la gomma dove voi appoggiate il piede guardate come morbi viene anche la pianta dei piedi gode ma come come una riccia timone spettacolare interruttore luce batteria luce bluetooth sensore per la luce per accendere le luci queste sono le luci led e questi sono gli attrezzi che sono necessari per arrivare a questo punto praticamente l'avete smontato così tutto allora una brugola esagonale del due e mezzo una brugola esagonale un crocciavetino stella piccola con questi tre tre si voi potrete aprire e manutenzionale completamente il vostro segue i mini nine boot cioè questo è spettacolare questo signore su queste cose veramente la mano degli americani fa paura numero uno signori dal ferro lo finiamo e ripartiamo alla grande dal ferro squadra corse quadristi punto it primo articolo tecnico scooter elettrici big elettrica segue mini spettacolo a una settimana prima che schiena italia anzi che schiena europa un saluto